eccoci qua ci siamo finalmente arrivato il diciotto gennaio del duemilaventitré è la finale di Supercoppa si parte stamattina con obbligo di riscatto con le ultime di formazione Enrico Boiani ciao ciao buongiorno buongiorno a tutti milanisti forza forza ci si gioca un trofeo torna a giocare il Milan una finale dopo un bel po' di tempo insomma non gioca una finale secca Milan che va in campo con due novità tra poco ne parliamo perché insomma rispetto magari alla formazione che si pensava potesse scendere in campo prima di Lecce e poi anche soltanto ventiquattro ore fa ci sono delle piccole novità eh però Enrico ovviamente ti chiedo un po' il mood generale ma in realtà come ho detto ieri sono abbastanza contento che questa partita arrivi in questo momento qui sono contento che torniamo a giocare una finale perché comunque questa squadra deve capire qual è il calibro anzi pardon questa rosa questa questi ragazzi questo staff insomma le persone che in questo momento storico fanno parte del Milan dopo aver vinto il campionato devono ricordarsi devono capire di che club e di che squadra fanno parte questa questa squadra esatto e questa squadra questo club le finali le gioca e molto spesso quasi sempre le vince quindi bisogna tornare a giocare certi tipi di di competizione bisogna tornare su un certo livello sia dal punto di vista del gioco ma anche dal punto di vista mentale della mentalità di una squadra che è sempre stata al top salvo qualche periodo storico in cui ha avuto delle difficoltà però è una squadra che le finali le gioca di solito ogni anno che è sempre al top che si gioca il campionato che in Europa compete quindi bisogna tutti ritrovare un pochino di di lucidità e soprattutto di di piedi per terra testa bassa lavorare e giocare questa partita e vincerla. Hai detto lucidità. Io ho detto lucidità citando il nostro allenatore una delle due parole cardine del nostro allenatore vedremo se questa sera ci sarà la lucidità di cui tanto si parla. Questa è la prima pagina di Gazzetta il derby che scotta Milan Inter in Arabia Saudita per alzare il primo tofeo che può rilanciare la stagione il duello Tonali-Barella e le istruzioni per l'uso di Pioli e Zaki. Tra l'altro nell'editoriale in basso sotto il braccio mancino di di Barella c'è chi perde è quasi perduto di Luigi Carlando. R chi perde è quasi perduto per davvero? No sì. Diciamo che è una bella botta per la stagione e bisognerà capire se la squadra che questa sera uscirà senza la coppa tra le mani saprà dare una comunque una sterzata a quest'anno perché sia il Milan che l'Inter non stanno vivendo un periodo idilliaco ecco ehm magari l'Inter più un pochino prima e si sta riprendendo ma comunque con qualche inciampo come il pareggio contro il Monza come qualche problema relativo magari eh anche dal punto di vista societario piuttosto che rinnovo di Skriniar e quant'altro un Milan che invece è campione d'Italia e sappiamo tutti bene tra gli infortuni piccoli problemi il mercato che non si fa soprattutto i punti buttati via contro Lecce e la Roma intervallati dall'uscita alla Coppa Italia sicuramente sono due squadre che non stanno vivendo il loro pieno il loro massimo come poteva essere l'anno scorso in cui Milan e Inter hanno dominato il campionato rispetto rispetto a tutte le altre questo questo derby di supercoppa questo superclassico citando il nostro amico il nostro amico Ernia arriva in un momento un pochino così per tutte e due vedremo vedremo è una partita per me giusta per entrambe in questo momento. Eccoli qua i nostri avversari formazione a tipo dell'ultimo periodo diciamo non non ci sono grandi novità quindi con Onana in porta bastoni a cerbi e screener in difesa d'armiane di marco i quinti di centrocampo con barella c'è la novole mkhitaryan in mediana latro e gieco davanti. Sì questa è l'inter ormai classica no? Sì negli ultimi mesi due mesi tol. Esatto che fa meno di Brozovic per i problemi fisici che fa meno di Dumfries che è tornato dal mondiale ma in realtà è iniziato in realtà anche questa stagione un pochino traballante senza De Frai che io avendolo al fantacalcio penso è calato è sceso di prestazioni di livello e con davanti i due che stanno di fatto tenendo a galla questa squadra. Lautaro soprattutto è di Ngeco con un Lukaku che ancora alle prese con qualche problema fisico soprattutto anche dal punto di vista delle delle prestazioni non è mai tornato il Lukaku dell'Inter di due anni fa. È l'Inter la conosciamo l'abbiamo già affrontata l'abbiamo già battuta così e quindi bisogna bisogna vincere bisogna spingere. Eccoli invece i nostri con Tata Rosano in porta Calabria e Ternandez esterni difesa Chier e Tomori quindi confermato Simon Chier dopo l'inscrizione degli ultimi due giorni va in campo pronto il danese con Tonali Benaser e poi l'altra novità di formazione fino a ieri era in vantaggio Alexis Salmaker nell'ultimo allenamento quello di ieri e invece sorpasso di Messias Messias a destra con Diaz Leao dietro Livio Giroud. Quindi due novità. Qua allora Chier ce lo poteva aspettare io onestamente per una partita del genere non avrei rinunciato a Salmaker soprattutto anche per quanto riguarda quel tridente di trequartisti Messias di Azleao che abbiamo sempre detto essere un pochino controproducente no? Un pochino troppo individualista un pochino troppo statico per per il Milan e invece Pioli rimanda in campo tutti insieme sicuramente avrà visto qualcosa di positivo di di tanto positivo. Penso Enrico che in una partita secca come una finale non si può essere individualisti ecco penso che tutti aiuteranno tutti. Certo ma infatti il mio augurio che comunque aveva visto Messias comunque bene in ripresa rispetto alla partita col Torino piuttosto che anche all'ultima e che quindi possa avere più magari arsenale offensivo non rinunciando comunque a copertura perché Messias una mano dietro spesso e volentieri la dà quindi ci può stare come scelta anche un pochino per sparegliare le carte l'importante che ci sono per me i due in mezzo al campo e i due là davanti le Aoi Giroud perché sono sempre loro alla fine che ci trascinano quindi credo che sia comunque una formazione molto valida con qualche alternativa dalla panchina tra cui appunto Salma Kerr il ritorno tra i convocabili di Ante Rebic di Vokorighi che qualche minuto nelle gambe l'ha messo quindi dai forza 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 chiederemo di stringere i denti ancora i francesi a te a Giroud insomma il resto della formazione però è abbastanza disegnata quindi forza siamo arrivati in chiusura di obbligo di riscatto noi ci ritroviamo direttamente tra poco in Chiama Milan per tutte le vostre telefonate le considerazioni a poche ore dalla gara poi ci ritroviamo in lunch per sale tredici al talk delle sedici dopodiché dalle diciannove si parte con il pre partita alle venti la live reaction alle ventuno il secondo tempo della live reaction e alle ventidue se si finisce tra i novanta minuti il post altrimenti come sempre pochi minuti dopo la fine della partita grazie Henry grazie a te grazie a tutti mi raccomando ragazzi forza Milan oggi forza eh sì forza Milan per stasera per oggi ci ritroviamo in tutti gli appuntamenti di giornata di Radio Lossonera restate con noi che vi accompagniamo praticamente fino al fischio di inizio grazie a tutti e a dopo ciao 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 ciao